Credo che sia un'iniziativa molto importante e positiva e da rilanciare come riflessione a livello nazionale perché evidentemente c'è una convergenza di interessi, nel senso che c'è l'interesse allo smaltimento di questi beni più che alla distruzione, proprio allo smaltimento e nello stesso tempo anche si va incontro alle esigenze delle persone più bisognose quindi diciamo una volta tanto ci occupiamo dei più deboli nel senso più vero del termine. Comandante ci racconta come nasce questa iniziativa? Nasce dal convincimento di fare un qualcosa di utile per il sociale. In questo caso ci rivolgiamo a una platea di enti di istituzione che fanno assistenza ai bisognosi, immigrati o altri bisognosi e quindi nella consapevolezza che dall'esito della nostra attività operativa, quindi parliamo di merce sequestrata per contraffazione può essere distribuita anziché distrutta e bene farlo perché comunque andiamo a dare un supporto a strutture che operano in maniera molto concreta sul nostro territorio. Cosa distribuirete? Fondamentalmente abbigliamento? Abbigliamento e scarpe, sì, tutto un materiale che può essere utile per l'assistenza di tutti questi bisognosi che abbiamo nei nostri centri. Io applaudo questa iniziativa della Guardia di Finanza perché in fondo si tratta di valorizzare questi beni invece che, come si diceva, mandarlo a smaltimento, invece vengono utilizzate per queste fasce di persone che sono più povere. Quindi volentieri ho accolto anche l'edificio di rendermi presente. Ho visto che i destinatari sono la Caritas di Ocesana, Cenacolo di Solorino che si prende cura degli immigrati. Ho visto anche la parrocchia del Pantio che ogni giorno offre un pasto caldo a coloro che vanno lì. Per cui è un'iniziativa molto intelligente, soprattutto in riferimento alle situazioni che stiamo vivendo. Che questa iniziativa sia presa dalle istituzioni civili, insomma, è molto lodevole. Come Chiesa ho da apprendere e da esortare ogni cristiano ad aprire il proprio cuore sempre a una maggiore attenzione ai bisogni del prossimo. Come Chiesa ho da apprendere e da esortare e da esortare.